Pronto? Servizio di igiene e sanità pubblica del regno di Gozahi ASMR. Salve, buonasera, cercavo creatura. È lei? Benissimo. La sto contattando perché mi risulta che lei non è iscritta al mio canale. E come si sente? Ansia. Poi? Accidenti, molta tristezza. Depressione addirittura. Poi che cosa si sente? Ho capito. Ok. Ok. E ci sono altre persone a casa con lei che non sono iscritte al canale di Gozahi ASMR. S. M. A. Va bene. Ah, ok. Do del tu. Va bene. Vabbè, non c'è bisogno che tu, creatura, ti giustifichi per questo, però se tu vuoi guarire dall'ansia, la depressione e essere questo continuo, sentirti agitata e questi pensieri disfunzionali, perché non sono altro che pensieri disfunzionali, dovresti assolutamente iscriverti al canale Gozahi ASMR. E' certo. Sì. Perché è uno dei modi gratuiti e migliori per farsi passare questi brutti sintomi. Già. Ah, quindi c'è una persona nella sua abitazione che è iscritto. E come si sente? Ah, rilassato. Eh, perché è iscritto. Quindi mi stavi dicendo, creatura, chi c'è a casa con te che ancora non è iscritto al canale? Cognome. Cognome. Dato di nascita. Ok. Poi che altro c'è? Cognome. Cognome. Sì, ovviamente della persona. Ok. Data di nascita. Cognome. Non c'è nessun altro, siamo sicuri? Ok. Io direi che la soluzione al problema è sicuramente iscriversi al canale. Tu, creatura, lo hai già fatto. Se vuoi lo facciamo insieme. Sì. Posso iscriverti io? Cioè, nel senso, posso dirti come fare. Basta solo cliccare su iscriviti. Esatto. È gratuito e veramente semplice. Clicca. Ok. Invece le altre persone pensi che lo faranno in autonomia? Ok. Perché vogliono stare bene, giusto? Esatto. 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 tu non sapevi che era così importante iscriversi e attivare la campanella, perché così se tu l'attivi potrai ricevere le notifiche e restare sempre aggiornata sui nuovi contenuti che andrò a postare perché ci sono tante tante novità in arrivo ed è molto importante che tu ti iscriva e attivi questa campanella, non aver paura di iscriverti e cliccare su quel tastino, davvero molto importante per me ma anche per te creatura soprattutto, esattamente ah si e quindi nelle ultime 48 ore hai visto queste persone che non si sono iscritte al canale Gozai ASMR, loro non si sono iscritte però hanno guardato i video, molto male e chi sono queste persone? Sono delle creature come te, nome e cognome? Data di nascita? Certo ogni creatura nel regno di Cosai è importante ma è importante che si iscriva e metta anche dei like ogni tanto nei video e perché no, anche ogni tanto può commentare e dire il suo pensiero perché ogni commento verrà letto e preso in considerazione, certo, l'opinione di creature come te è molto importante per il regno di Cosai ASMR, certamente, certo che puoi richiedere anche dei video, è così, così tu creatura puoi richiedere anche dei video personalizzati, cioè tipo nessuno ha mai fatto questo video e io vorrei tanto vederlo perché è un trigger che per me è molto importante e mi fa rilassare, oppure questo argomento è molto interessante e puoi parlarne di più e quindi lì si trovano dei modi per farti rilassare personalizzati e anche dei contenuti particolari che negli altri canali non troverai perché solo il regno di Cosai ASMR è un regno di Cosai ASMR, solo questo regno unico e originale, quindi hai deciso di iscrivervi al canale di Cosai ASMR. molto, 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 bene creatura, vedrai che la tua depressione, nella tua ansia, la tua ansia, il peso che senti, pian piano se ne andranno via, se ti iscriverai e guarderai i video del canale Cosai ASMR, perché tra un po' arriveranno dei contenuti davvero importanti, 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 con la quale io ti aiuterò a iniziare un nuovo percorso di cambiamento di cambiamento, di cambiamento, di cambiamento, di cambiamento, di cambiamento, di cambiamento, di cambiamento iscriversi, 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 benissimo allora creatura, io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura.